Bella per voi raga, bentornati laziali senza tempo Marco e Diego E' mancato poco raga, è mancato tanto così, tanto così al 7 a 1 del Bodo Clinto sulla Roma Ma raga, cioè, era pure tipo anniversario oggi del 7 a 1 del 2014 Non ho capito bene, però ci ha rinconato un po' questo, dopo una partita non proprio al massimo, alla massima formativa Lazio Devo dire che solo nel secondo tempo c'ha un po' dato quella voglia in più di guardare la partita Perché nel primo tempo, bene o male, non è che si è caduto tantissimo No, guarda, più alto è proprio il risultato che non va, perché era da vincere questa partita Questa sera è importante Stasera c'è sta Galatasaray-Lokomotive, anzi Lokomotive-Galatasaray, vabbè, e vedremo che succederà Speriamo un pareggio, perché se vince... Vince Galatasaray va a 7 Sì E quindi... Vabbè, possiamo sempre arrivare a primi, eh Però comincierà a essere complicato Non devi vincere il Lokomotive, perché ci va a pari punti Esatto, se vincere il Lokomotive è un pareggio, un pareggio sarebbe perfetto Però, beh, riguarda la partita, regà, boh, non mi è piaciuto moltissimo Ma sai, cioè, loro giocavano bene No, io, sì, sì Poi, davanti, poca roba, nonostante comunque Milik, Under, Payet, comunque azioni pericolose poche Poche o poche, regà Poche o poche Due, tre palai di Stragoscia, ma niente di più Anzi, una veramente importante su Under, ma... Azioni pericolosissime e niente Ma anche noi, eh, fino a una certa azione pericolose Beh, oddio, pure... In realtà al primo tempo qualche azione... Cioè, sia al primo che al secondo tempo abbiamo fatto qualche azione pericolosa Però un po' così sembrava un po' fortuita Sì, sì, infatti non crossuita bene dal basso, comunque Non siamo riusciti, no Ancora non riusciamo a... A fare sto cazzo del gioco che vorrei vedere Mi... Mi nervosisco, mi sono nervosito, perché... Comunque, potremmo andare a vantaggio Tanto di giro, si è mangiato un paio di coppe Sono incrociato, ha bucato il pallone E il gol ha fatto, fuori gioco, ma il gol Millimetri, o se qua vale da un minuto... Un secondo... Un minuto prima Un minuto prima, magari Chi era? Zaccani o... No, Risarberto Che è appena entrato, vai No, no, Risarberto, regà Hai entrato, ha fatto... Appena sono entrati lui Pedro e Quapro L'8-9-10 Esatto Hanno fatto i bughe Hanno cambiato la partita Però poi, Risarberto è sparito Non serve a più do mette se... Non lo so... Risarberto si deve mettere in testa E deve giocare bene tutte le partite E non gli deve ruoter il culo Se entra al secondo tempo, regà Perché a quanto pare Per spessare ognuno è importante Cioè, ogni persona è importante Ogni carciatore è importante Quindi deve entrare al secondo tempo Per spaccare la partita Perché ci serve più Manovra Concentrato Un po' fa tre passaggi E poi... Poi spegnete Spegnete Poi ripeto, loro c'erano... Cioè, loro dietro stanno messi Cioè, Saleta-Carla E... Titolare da... Da Croazia E... Salibana, no, promessa Camarà Mediano Che poi voleva Lazio E poi non si sa che fine fa Raffaele Banno a fine... A scatenza di contratto A fine anno Ma c'è il Milan Cioè, è forte Cioè, a vent'anni è forte E... Una bella squadra loro Però... Noi... Veramente... Ci manca... Ci manca sempre qualcosa Basic Orlando Luisa Alberto Ci sa che gioca al posto suo Perché... Perché gioca bene A me piace Non ha sbagliato niente Se inserisce Un altro tipo di giocatore Ovviamente Tutto un altro tipo di giocatore Però c'ha pure I piedi educati Voglio dire Medinco che c'è un po' in ombra Oggi Oggi sì Un po' sotto tono E... Però vabbè Questo io direi proprio Nel senso La maggior parte Di queste cose Stamattì I primi 60 minuti Totalità La partita Perché dopo Fiamo pure 70 Sì, infatti Gli ultimi 20 minuti Abbiamo fatto ebuche Andiamo su tutte le palle Akpac Pro Grande partita Grande recupero A me Sì, grande Akpac Pro Eh... E' la partita Ti sono maniato la cicoria Solo da fare il video Vabbè Lo vedrai dopo Nel video Scriveteci nei commenti Hai la cicoria Ma che riva Comunque E' ancora più grande partita Comunque Dai 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 Sì Pedro è entrato Poca roba Raul Moro Allora Zaccagni è partito titolare E... Non ha giocato male Però non ha Non dà quello Sprint Ha fatto qualche cosa Buona Però Non è quello che ti dà Felipe Anders Felipe Anders Non è quello che ti dà Lo strappo Alla sua fascia Devi giocare diversamente Alla sua sinistra A parte Cioè Giocavamo sempre a destra Perché Lazzari Milinkovic E Felipe E Felipe Hanno un'intesa Insomma Un po' più collaudata E quindi Giocavamo sempre a destra E quando arrivava La palla a sinistra Lui non ti può dare Lo stesso Senti da Felipe Anders Poi dopo È entrato Raul Moro E ha proprio messo il pepe Cioè Sartava l'uomo Ha messo un sacco Di palle e mezzo E ha caduto una palla In testa E Ha schiacciato La schiacciata per te Vabbè Sarte un metro In tappo Non è proprio il suo forte Diciamo Però Niente Ecco Lazzari Benissimo In proposizione Soprattutto verso La finale della partita Dietro ancora male Se vede proprio Quando gli arriva la palla A campanile Ciao Vittorio Non Non sa che fa Non sa il piale di testa Dei piedi Sbaglia A un certo punto Stava a faffango A A Dimitri Pagliè E' normale che Luiz Felipe Si è in mola Luiz Felipe bene Stragoscia bene Manosic anche Però ecco Nel complesso Il risultato non è arrivato E Stiamo ancora 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 In collaudazione In collaudazione Però In collaudazione In collaudo In collaudazione Fate come mi pare Io più Che di Che non c'è Stavano col gioco E tutto il resto Secondo me Poi per Marsi Ha giocato bene Perché comunque Ci chiudeva sempre Come hai detto te Non buttava la palla Non buttava mai la palla E dietro si chiudeva molto bene Poi a un certo punto Era 56% Possesso palla Per loro Ma pure di più Ma pure di più Poteva essere pure di più E Regal Marsi Ha Ha giocato molto bene Da di C'è niente Un bel Ben allenatore Sapoli Sapoli Come si chiama Non lo so Niente Vabbè Non è Niente è perso Ovviamente Vediamo che succederà Stasera Tra le due contendenti Appunto Locomotive E Galatasaray C'era in cuore Sol Bakken Del Bode Clint E Quanto pare Che questi 30 milioni Per con Bull L'hiamo fatto bene A non spendere Dice che ha fatto La partita ombriosa E Vabbè Così Un saluto Ai romanisti Giusto Per ridere Perché insomma Poi noi dovevamo Fa meglio E niente Ragazzi Ma alla prossima Vabbè Io sì Ma non avevo perso 6 a 1 Vabbè Vabbè E alla prossima C'è il Verona Che è difficile Pensavamo di vincere Facile questa Cioè facile Però insomma Eravamo convinti Di vincere Almeno io E poi fa male Col Verona Che sia un Di buono espicio Appunto Stavre stazione In chiaroscuro Per la partita De sabato Alle 3 Quindi vado a spegne Un bel mi piaccio Un bel commento E una bella iscrizione E un bel 7 a 1 Dai E un bel Grazie.